Musica Prima partecipazione di questo evento dedicato al femminile, un esperimento l'avete letteralmente dominato Sì, non sapevamo come fosse questo torneo Sì, non sapevamo proprio niente e siamo venuti qua così a casa Bene, quindi un'iscrizione voluta, stavate seguendo da anni Zona Gol E per questa ragione quindi volevate proprio iscrivervi bene, così vai molto meglio Quindi hai voluto iscrivervi a questo torneo in cui ci seguivi e l'avete vinto perché vi siete preparati per anni Sì, puntavamo al titolo Puntavate al titolo, già dalle prime partite si era notata una superiorità, oggi avete giocato molto bene L'avete annunciato, l'avete tenuto, complimenti alle Riozza Shore, grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.